Ciao, sono Francesco, sono della seconda C, e ora sono Eroi di ripizzo numero 1 di Nicola Quattro Dio. Ora sono Eroi di ripizzo numero 2 di Nicola Quattro Dio. Ora sono Eroi di ripizzo numero 2 di Nicola Quattro Dio. Ora sono Eroi di ripizzo numero 2 di Nicola Quattro Dio. Ora sono Eroi di ripizzo numero 2 di Nicola Quattro Dio. Ora sono Eroi di ripizzo numero 2 di Nicola Quattro Dio.